Chiunque lo avesse visto o sentito, contatti noi o le forze dell'ordine, siamo preoccupati e vogliamo trovarlo al più presto. È questo l'appello lanciato tramite i social network dai familiari e dagli amici di Luca Moretti, l'operaio 26enne scomparso lo scorso 26 maggio da Rigutino. Di lui non si hanno più notizie da ormai due settimane, da quando è uscito di casa nel primo pomeriggio e non è più rientrato. Il giorno della scomparsa il ragazzo sarebbe uscito assieme ad un amico che poi dopo alcune ore lo avrebbe riaccompagnato. Il telefono è spento e da quel sabato i genitori del giovane hanno sporto denuncia ai carabinieri. Sono così partite le ricerche, impegnati i militari della stazione di Rigutino e della compagnia di Arezzo. Lo smartphone di Luca la sera della scomparsa ha agganciato una cella vicino al casello autostradale di Battifolle e in quella zona si stanno cercando le sue tracce. Le zone battute sono la campagna trattuori viceommaggio e pieva al topo, al momento però senza portare esito positivo. Controllati anche i corsi d'acqua e perlustrate le zone boschive. Luca, un ragazzo robusto, alto circa un metro e ottanta, al momento della scomparsa indossava dei pantaloni beige e una maglietta. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato con titolare il PM. Marco Dioni Luca